Ciao a tutti ragazzi, sono Karen e anche se probabilmente vi siete dimenticati della mia faccia, dei miei capelli e della mia barba esisto ancora, cioè sono ancora un essere umano reale dotato di capacità motori e di pensiero o qualcosa del genere però non sono dotato di capacità di andare dal barbiere, questo lo potete constatare dalla testa quindi questo video non era assolutissimamente pensato, infatti sono col microfono in mano non ho altra possibilità di mantenere il microfono, sono attualmente col microfono in mano, non dovrei neanche essere a casa quindi è un video totalmente effettacocchiam e un video in cui andiamo a pullare nella Dream Collection andiamo a pullare nella Dream Collection semplicemente perché ho bisogno di qualcuno che mi scrive nei commenti che sono osculato e che mi lamento sempre perché altrimenti non sono io, cioè io ho bisogno di qualcuno che si lamenta delle azioni che faccio, cioè è una cosa continua, è una cosa perenne, è una cosa che mi piace, mi piace, mi piace ok ora, tralasciando le stupidaggini perché non mi ricordo neanche io come si fa un video, come si dice, cosa non si deve dire come si deve abbindolare la community o cose così andiamo diretti, spariamo queste 200 Dreamable perché sono 200 Dreamable questo è 200 Dreamable, 4 multi, come va va, come va va, stavo dicendo magari esce uno 0,01 in un banner Dream Collection si, Fabio, si, credici e andiamo, andiamo quindi, prima multi prima multi gioiosa, già vediamo la gioia nell'aria incredibile, incredibile, la freccia sbuo i coriandoli allo piglio il culo se merda se ci fai bene male che sta accanto, non mi ha fatto niente, pizze merda grande bucchum pizze merda c'è stivo coriandola, c'è stivo fama, ma bastardo, non mirate niente non mirate niente cioè voi io c'è stivo, c'è stivo coriandola io l'ho già visto coriandola fama, fama bastardo, chi si è registrato? io te lo mando, che lab, te lo mando io te lo mando sto video, è registrato c'è stava il coriandolo il coriandolo significa SSR figlio di me non mi è merda che killi si, non mi è merda c'è stivo coriandola quando c'è sto coriandola è andato coriandola ma piglio è andato il culo eeeh, voglio, Carmela andiamo, Carmè Carmè uno solo Carmela cioè Carmè cioè io non lo so Carmè, se delle volte mi fai rimanere male proprio cioè ci rimango male, male, male ma io di un giapponese di merda che cazzo me ne faccio? cioè la mia domanda è quella io di un giapponese di merda io che sono l'antigiappo ok? io che sono l'antigiappo io che ho costruito un'istituzione su non giocare giapponese su questo gioco di merda mi esce un giapponese a me cioè a me a me mi esce un giapponese vabbè no è sempre a posto grazie 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 che love grazie ultime due estrazioni ultime due estrazioni andiamo sempre convinti tranquillissimi ragazzi assolutissimamente scialla come se niente fosse tanto ora vei chance guardiamo eh ricci narcobaleno incredibile sulla fascia doppio SSR dubbio SSR in arrivo uno due tre quattro uno solo porca vassarda ok ok siamo fronti incredibile incredibile sulla fascia cosa uscirà da questo e Bunnak cosa uscirà Bunnak cioè ma Bunnak cosa siete cinque di voi in retap cinque non uno cinque cinque mi esce Bunnak 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 schifato 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 totalmente schifato vabbè andiamo avanti quindi ultima estrazione in cui anche stavolta usciranno i coreandoli perché sono usciti i coreandoli dappertutto vuoi dire che non escono i coreandoli cioè sono usciti dappertutto mi sono usciti pure quando li volevo niente coreandoli oh niente vuota quindi siamo d'accordissimo che questa estrazione questo mini video ha fatto totalmente cacare a spruzzo però ora si romperà una palla perché io sono fortunato no è vero è vero aspetta rompiti no non si è rotta vabbè quindi questo questo video sancisce 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 il mio ritorno in maniera ufficiale nel fare i video col microfono in mano cosa che penso che si sarà sentito malissimo perché avrò toccato dieci mila volte così quindi penso che si sarà sentito malissimo ma sancisce il mio ritorno nel fare i video logicamente oggi sono scombinato in maniere obs cioè scena sono una cosa assurda però porterò un fabio un pochino più più normale non così obsoleto nei prossimi video quindi per questo video è tutto vi ringrazio di aver visto questo video anche se c'è mazzo dai c'è dai a me poi c'è dai però ok ritorneremo anche con le live perché come potete vedere c'è un'altra casa in cui c'è la fibra quindi con la fibra 200 mega possiamo tornare a fare le live ebbene sì e quindi questo è tutto queste sono le mini novità che dovevo dare queste sono le mini novità che ho dato quindi ritorniamo a fare le live sono ritornato in maniera ufficiosa ufficiale l'unico problema di circostanza è che devo mandare il monitor in assistenza quindi il tempo che torna il monitor se non succedono casini siamo tornati se succedono casini ciao quindi per questo video è tutto vi ringrazio di averlo visto spero vi sia piaciuto perché a me non mi è piaciuto bel dream cold action e ci becchiamo alla prossima